Noi siamo... Feroci Allora ragazzi, oggi incontriamo Adrian Fartade Professione, divulgatore scientifico che si occupa di astronomia e astronautica Ha scritto infatti tre saggi legati al tema dello spazio Nel 2009 ha creato la piattaforma web Link to Universe Dove si occupa delle più recenti scoperte nel campo astronomico e dello sviluppo del mondo dell'astronautica Ha tenuto numerosi monologhi sull'esplorazione spaziale in diverse scuole e teatri italiani Dal 2022 nel programma di Drusilla, l'almanacco del giorno dopo, nella rubrica L'astronomo del giorno dopo E in tutto questo in realtà però è laureato a Siena in storia e filosofia Io direi di iniziare a questo punto e di far entrare Adrian No? Yes! Entri l'ultimo ospite Adrian! Ehi! Grazie mille per essere venuto a trovare, sei il nostro gran finale Arriva sempre a Dolce si infonda, no? Allora, io la prima domanda la vorrei fare io, posso? Ma devi! Grazie! E come è nata la tua passione? Allora, in realtà la cosa buffa è che non lo so neanch'io Io mi ricordo più che altro momenti in cui me ne sono accorto Era legato anche al fare teatro, era una cosa che facevo di continuo Non riuscivano a farmi stare fermo Quando ero anche all'asilo c'è stato un momento in cui erano preoccupatissimi Perché ci hanno lasciato a giocare, erano tornate le insegnanti Ed ero sopra un tavolo con tutti i bambini intorno a cui io davo ruoli Quindi dicevo tu farei il mago, tu farei il guerriero, tu farei la principezza, eccetera Quindi le cose che assurrivo da quello che vedevo, cartoni animati E reinventavo storie di continuo E quindi quando ho incontrato storie che riguardavano la scienza, l'astronomia Per me era semplicemente una delle storie più belle, più fantastiche che avevo scoperto Allora, volevo chiederti una cosa Posso fare una domanda? Prego, prego Allora, noi viviamo una realtà molto umanocentrica E abbiamo fatto anche una trasmissione molto umanocentrica Molto legata all'essere umano Se dobbiamo un attimo fare un passo indietro In realtà forse un passo in su verso il cielo E guardare tutto quello che circonda l'essere umano E quello che è l'universo Quindi quella roba molto più grande di lui Io ti faccio forse la domanda più difficile Perché esiste? Hai solo 10 secondi per rispondere Sì, sì, ma infatti bravissimo Hai un timer, calcola, perché ce ne sono tante di domande Non abbiamo idea La risposta più bella per me è che Per quanto noi sappiamo come funzionano tante cose nell'universo Ancora davvero non abbiamo idea del perché esistiamo Ma anche a un livello proprio elementare Perché nell'universo sappiamo che ci sono anche antiparticelle Per esempio, noi siamo fatti di materia Ma esiste una controparte della materia chiamata antimateria Che è uguale alla materia solo con un segno opposto È come, immagina, due guanti Uno non te lo puoi mettere sulla mano opposta, giusto? Perché semplicemente è specchiato Quindi per l'elettrone che nel caso della materia è una particella con un segno negativo L'antimateria è positivo? Sì, e sono i positroni Solo che se tu fai incontrare una particella di materia e una di antimateria Si trasformano appena si sfiorano in energia e basta Quindi si annichiliscono completamente Ti basterebbe qualcosa delle dimensioni di un palazzo Per distruggere completamente l'intero pianeta Terra E... Wow Ma questa antimateria... È tipo per distruggere un lollo È un po' impegnativo Eh, lo so Perché sia protetto da convenzioni speciali per il tesoro dell'umanità Grazie Mamma mia Mamma mia Adrian, wow Che lecca è con Hai fatto un disastro senza sapere Sono appena arrivato e volevo mettermi a favore Comunque sono preferito Ah, è certo No, però la cosa bella dell'antimateria in realtà non è solo quanta energia può liberare Ma che sappiamo dai modelli che abbiamo riguardo all'universo Che quando è iniziato l'universo, subito dopo il Big Bang Doveva essere nata tanta materia quanto antimateria Esattamente E sappiamo che doveva una anichilissia vicenda Quindi l'intero universo Doveva collassare Nemmeno partiva Doveva essere solo energia Non dovevano esserci cose fatte di materia Invece quando guardiamo intorno all'universo Non c'è antimateria Quasi per niente Sulla Terra riusciamo a crearla Qualche volta nasce qua e là Ma sparisce subito E non abbiamo idea del perché siamo qui Domanda, ma quindi se io avessi dell'antimateria Diciamo che è la controparte perfetta di questo mondo Bicchiere Sì Li faccio toccare e questo scompare? Scompare, credo, buona parte dell'Italia No vabbè Sì, la quantità di energia che libereresti con antimateria Non c'è niente là fuori Che rilascia così tanta energia quanto l'anichilimento Perché letteralmente la materia e antimateria Si trasformano solo in energia E stiamo cercando di creare motori che vanno ad antimateria Perché ti basterebbero poche gocce Per avere una navicella che è in grado di accelerare così tanto E per portarci verso altre stelle Scusa, la particella di Dio che differenza ha con l'antimateria? La particella di Dio, sì Ma io questa cosa me la ricordo Non so se voi le leggevate, tipo angeli e demoni Sai quella roba lì L'antimateria era chiamata anche particella di Dio Però magari era un'approssimazione Riguardava un'altra cosa che non sappiamo Perché alcune particelle hanno massa È un'approssimazione anche questa Però in pratica le particelle non sono tutte uguali Ci sono alcune che pesano di più di altre Quelle elementari E non abbiamo idea di perché hanno queste caratteristiche Una delle idee era che quando viaggiano Quando si muovono all'interno dello spazio Incontrano, immagina un campo di neve Se Michele cammina in mezzo alla neve La neve è alta, lui ha solo le scarpe normali Potrebbe camminare molto piano Perché le scarpe è sprofondo all'interno Immagina se però ha delle racchette sopra Riesce o dei sci Scivola sopra, giusto? E quindi alcune particelle È come se passassero all'interno di questo campo Con più fatica E quindi è come se avessero più massa Si muovono più lentamente Altre invece sono molto più leggere Perché interagiscono meno E noi stavamo cercando di capire Se esiste o no questo campo Chiamato campo di X E cercavamo un fiocco di neve Per confermare che esiste tutta la neve All'interno di cui si muovono le particelle Era chiamata particella di Dio Perché l'idea era che Se troviamo questa piccola particella Di questo campo Attraverso cui si muovono tutte le particelle Riusciamo a spiegare Perché alcune hanno delle caratteristiche diverse da altre In che senso le particelle hanno caratteristiche diverse? Cioè cosa si intende per particelle innanzitutto? Se prendiamo lui e lo tagliamo in due Con suo consenso ovviamente Sì sì ma possiamo provarlo proprio Secondo me possiamo Qualcuno ha un coltello ragazzi Lo tagliamo in due E poi in due e in due e in due ancora A un certo punto secondo i grece arrivamo O degli atomi indivisibili Poi abbiamo scoperto che in realtà Anche quelli puoi farli a pezzi Trovi particelle più piccole come protoni e neutroni E poi se vai ancora sotto Trovi altre particelle ancora più piccole Più piccole protoni dei neutroni Sì tipo i quark Che sono quello di cui è fatto un protone A un certo punto però sono indivisibili E le caratteristiche che hanno quelle più piccole Più indivisibili non abbiamo idea da dove le hanno prese Cioè perché sono così Faccio un secondo un salto indietro Perché comunque tutto il tuo lavoro Tutta la tua ricerca parte da domande veramente enormi Tu ti ricordi la prima domanda enorme che ti sei fatto? Io mi ricordo quando da ragazzino Non so se voi lo facevate Io mi stendevo sul prato Guardavo il cielo di notte Guardavo il cielo e mi chiedevo Certo Cosa cazzo ridi Lollo? No 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 È una cosa di una profondità Ma scusa Mi ha fatto ridere Guglielmo Che ti faceva il verso Ma ero serio io L'ho fatto No torniamo un secondo ad Adrian Qual è la prima domanda enorme? Mi ricordo che quando ero molto piccolo Mi chiedevo continuamente Come è fatta la luna dall'altra parte C'erano già le foto Solo che nessuno Lo sapeva E quindi quando chiedevo foto della luna Tutti mi facevano semplicemente vedere i libri Dove c'erano delle foto della luna Ma visto da questo lato Guardavo le stelle anch'io Spesso mi chiedevo se eravamo soli Se c'erano alieni là fuori Ma non tanto per la curiosità per gli alieni Ma solo perché mi chiedevo in realtà Se c'era qualcun altro Che si sentiva solo Ero molto solo durante l'infanzia Per tanti aspetti E quindi il fatto che c'era qualcun altro là fuori Che poteva guardare le stelle Allo stesso modo Non so Era un pensiero che era dolce e amaro allo stesso tempo Sai che la cosa fichissima del tuo lavoro È che comunque si parte da Che un po' Cioè nella musica succede un po' la stessa cosa In maniera traslata Però si parte da un concetto di solitudine Due sono le soluzioni O inizia a guardare in altro E scoprire che sei piccolissimo O inizia a guardare dentro E scoprire che sei ancora più piccolo Perché arrivi al quark E quindi per me è un'indagine sulla solitudine Ma allo stesso tempo La cosa che mi ha sempre colpito Guardando il cielo È che Quando Quando vedi Per esempio La luce delle stelle Nasce dalla fusione nucleare Al centro delle stelle Quindi Atomi Si fondono insieme Per formare atomi più grandi Questo libera energia È tutta quella Quella formula Che tutti si stampano intorno Con scritto È uguale a mc al quadrato Ah sì Che vuol dire che l'energia è massa Possono essere intercambiabili Per cui Oddio quella formula Ce la spieghi Lollo Un secondo Ah non ho idea Copiavo sempre I verifiche di fisica Ragazzi Sei in school Non copiate Ma ti ricordi di chi è? Non è l'Einstein Sì Vedi Preparato Ah è la E perché Non è l'Einstein No Non ci credo È l'Einstein Io posso sopportare tutto L'Einstein È una grande città Io so È un gioco ragazzi Significa solo che La luce che noi vediamo dalle stelle Proviene da letteralmente Pezzi di atomi Che si sono fusi Quindi Quando hai due atomi Non so se hanno massa Uno e uno Si fondono insieme E la massa finale Della nuova particella Non è due Uno è qualcosa Perché un po' Della massa Viene solo trasformata In energia Questo significa Che poi Quei fotoni Che passano attraverso I vari strati della stella E ci mettono Centinaia di migliaia di anni Per uscire Perché la stella È estremamente densa Quindi rimbalzano Da una parte all'altra Finalmente escono dalla stella Viaggiano attraverso L'universo Passando attraverso Nebulose Sistemi planetari Di tutti i tipi Finiscono per passare Attraverso tutto il sistema solare Tutti i pianeti Arrivano fino a qui Passano attraverso Tutta l'atmosfera E colpiscono La tua cornea Il tuo occhio Che stai guardando le stelle E stimolano i nervi All'interno del tuo nervo ottico E quindi Quello si traduce In quella luce Che vedi Ma quella energia Ora fa parte di te Significa che tu Hai letteralmente Un pezzo Della stella Fisicamente Proprio dentro di te C'è un Energia Che era L'equivalente Di massa Quindi hai portato Via un pezzo Della stella Che ora fa parte di te Non ci Questa qui È la cosa più poetica Che abbia mai sentito Nella mia Intera vita E posso dire Non esiste Album Di Michele Bravi Che è riuscito A darmi Questa sensazione Vero Confermo Confermo Ma ti rendi conto Ti prego Scrivici qualcosa Ho le stelle negli occhi Letteralmente Sì Posso fare un'altra domanda Delle mie complicate Ti prego Chiedo prima il permesso Ai miei colleghi Ma devi Prego Prego Vorrei che rispondeste anche voi Ah certo Ok Allora Non so se questa domanda Parte da una base scientifica E qua mi devi correggere Perché è solo una nozione Di un romanzo C'è questo romanzo Di Oriana Fallaci Si chiama Inchallah Allora è la storia Di questo soldato Che va in guerra Un soldato Che prima di essere soldato Era un matematico Sì Ed era ossessionato Dalla formula dell'entropia Che è la formula di Boltzmann Dove si spiega Che tutto è caos Fondamentalmente Significa che Per esempio Se tu prendi un contenitore E ci metti Delle palline blu Da un lato E delle palline rosse Dall'altra Con una divisione in mezzo Per cui una pallina Può passare ogni tanto Dalla parte all'altra Inizialmente sono molto ordinate No? Quindi sono rosse e blu E basta Quella formula Dell'entropia Dice semplicemente Che se aspetti abbastanza tempo Tutto quanto va nella direzione Del un po' e un po' Cioè se aspetti abbastanza tempo Qualche pallina rossa Passerà di là Qualche pallina blu Di là Fino a quando Non ci saranno Non saranno mischiate A caso Caos Tutto intorno L'intero universo Tutto quanto Va solo in questa direzione È il nostro modo È il nostro modo di percepire Il tempo L'unico modo che abbiamo Per sapere che passa il tempo È grazie all'entropia Al fatto che tutte le cose Vanno verso Quelle che noi chiamiamo Appunto disordine In questo caso Mi attacca a questa descrizione Del disordine Allora secondo il personaggio Della Fallaci Se è tutto disordine Per lui disordine Significa morte Allora dice Qual è allora La formula della vita Qual è la formula dell'ordine Lui per tutto il romanzo Cerca la formula Della vita Che è secondo lui È il contrario Della formula Di Boltzmann Dell'entropia di Boltzmann Allora ti chiedo Secondo te Qual è la formula Della vita Poi vi dico anche La risposta Che si dà nel romanzo Wow Per me è la stessa È la Sempre Sempre la stessa formula Perché in realtà Boltzmann stessa Ne parlava per esempio Lui la chiamava una cosa Per i suoi colleghi Chiamati i cervelli di Boltzmann Solo un secondo Solo un secondo Lollo potresti rispondere Prima tu Allora Secondo me La formula della vita È Caos ci sta Però Non deve Ecco Ok continuiamo Ragazzi Ragazzi In realtà È proprio in virtù Del caos Perché L'universo è partito Estremamente organizzato Perché era solo Tutto in un punto Per cui Se non ci fosse stata L'entropia Che ha spinto L'universo A cambiare In questo modo Non avremmo avuto Stelle Pianeti E quello che vediamo ora È strano È controintuitivo Pensare che Visto che tutto Tende al caos E disordine All'apparenza Come fa a esistere Qualcosa che tende All'ordine Come la comparsa Di esseri umani Semplicemente noi siamo Un effetto secondario Temporaneo Del caos Noi esistiamo Perché esiste il caos Solo finché il caos Non vince su tutto E quella sarà La fine dell'universo Quindi la Com'era la La formula della vita È riuscire A incastrarsi All'interno del caos La cosa che mi piace La cosa che mi piace Della vita È che noi Sappiamo Benissimo Che tutto Andrà in quella direzione E nonostante questo Facciamo arte Michele è la formula Della vita per me È il fatto che Oddio Si fa arte Si può fare un cartello Con la mia faccia Con scritto sotto La formula Della vita Michele bravi La formula Della vita Sì per favore Due Guilielmo per te Cos'è la formula Della vita Guarda Michele È che Adrien mi ha veramente Rubato le parole di bocca Io ho un po' Un uno sguardo pessimista Su questa Su questo tema Noi non viviamo Ogni giorno Noi moriamo Mi rendo conto Che non è che sia Proprio una botta Di 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 positività Se vuoi ti do La risposta che ha dato La fallaci Vediamo la fallaci Che cosa ci ha detto Lei riassume Il concetto che dice Adrien in realtà Nello stesso modo Ma con una sola parola Lei dice Inshallah Inshallah è la formula Della vita Allora Questo romanzo Parla della guerra No Parla della guerra In Iraq Inshallah vuol dire Si è fatto il volere Di Allah E così sia E per lei La formula della vita Significa Accettare il caos Cioè accettare Che anche il caos Vince Ok Beh È anche vero però Che è molto da noi Non accettarlo Cioè il fatto Che gli umani Abbiano questa spinta Davanti a tutto quello Che l'universo Ci lancia contro Di trovare Un modo per andare oltre Quando l'universo Ci ha messo davanti Delle montagne troppo alte Noi siamo andati Oltre quelle montagne Quando ci ha messo Mari davanti Abbiamo costruito barche Abbiamo costruito aerei Razzi E quando il sole Porterà via Ogni traccia di vita Dovevamo forse Dovevamo forse un pasto al giorno Da mangiare Avevamo paura Di uscire per strada In un periodo storico Incredibilmente difficile Io crescevo come queer Che io avevo scoperto Alle elementari medie Di non essere binario E non sapevo come vivere Questa cosa E appena Non so Prendevo per mano Un altro ragazzo Che mi piaceva Al fine mondo Per cui per me Riuscire a trovare Lo spirito Della speranza O anche di vedere Gli umani Come indomabili Davanti a qualsiasi ostacolo Mi ha dato la forza Quando guardavo Là fuori Le stelle Pensavo Gli alieni Se un giorno li troveremo La mia più grande speranza Sarebbe Arrivare il momento In cui possiamo abbracciarci E poterci dire Quanto è incredibilmente difficile Essere senzienti E avere Questo senso Vuoto dentro Che non riesce a riempire Con niente Perché non ha idea Del perché Che senso ha Essere senzienti Mi viene in mente Le parole di una mia amica Che si chiama Chiara Gamberale Lei è una grandissima scrittrice Lei a un certo punto Scrive un libro Si parla di tutt'altro libro Si chiama qualcosa E parla di questo problema Di questa principessa Che ha un buco nel cuore E lei non accetta Questo vuoto E cerca in tutti i modi Di riempirlo con qualcosa Ogni volta che lo riempie Non c'è spazio Per accogliere le cose E allora lo deve risvuotare Però risente quel buco lì E a un certo punto Prende coscienza Che quello non è un buco Ma è un passaggio segreto Che la porta Da un'altra parte Dove vi porterebbe Il vostro passaggio segreto Bellissimo Lollo vai Ti vedo carico Dove ti porta Il tuo passaggio segreto No io solo per chiederti Puoi ripetere la domanda Mamma mia Lollo Perché fai queste domande Così lunghe Sono bellissime Sono in realtà Bellissime Sono bellissime Io in realtà Questa ce l'ho Questa ce l'ho Io credo che Mi porta da me Pare brutto a dire Ma è la prima immagine Che mi è venuta Allora io sono molto ossessionato Col concetto ovviamente Della fine Della vita E compagnia bella Però credo anche Quanto effettivamente Noi siamo diversi Rispetto a I noi di Cinque anni fa Dieci anni fa Quindici anni fa Per cui mi riporta in realtà La ricerca costante Di un qualcosa Che io ho perso Quando ero bambino E che secondo me Passo tutta L'intera mia esistenza Nel tentativo di recuperare E quando lo faccio Questo pensiero Penso anche che È un lutto personale Cioè io purtroppo Sono morto tante volte Per cui Ti dico Mi riporterebbe da lui Mi riporterebbe da tutti Quante Quelle persone Che hanno fatto parte di me E che ho perso nel tragitto Scusa Non so perché Non ti devi scusare Non sono qua per giudicare Tu Michele Allora In realtà io credo che Aggiungo un pezzettino Una visione di Guglielmo Mi riporterebbe Ai me Che ho lasciato indietro Ma ai me Che ho nascosto Nelle persone della mia vita Quando tu incontri qualcuno Un po' come quello Che diceva prima Adria No Cioè tu È come se impattassi Con dei pezzi Di particelle Che ti apparticano Adesso lo dico Qualissimo Che però rimangono Poi in quella persona E poi sono persone Che magari perdi Nel tuo percorso O che le perdi Anche nella misura In cui ti rimangono accanto Perché evolvono Insieme a te Quindi quella loro Versione di prima Non c'è più E quindi credo E quindi credo Che riverderei Tutti i pezzettini Di me Che ho nascosto Negli altri Adria tocca a te Io in realtà Sono molto d'accordo Con Michele Riguardo ai pezzi In altre persone Mi piacerebbe tantissimo Scoprire Quello che altri Perché ancora È un pezzo Ah è furiosissimo A un certo punto Nella mia vita Ho avuto la fortuna Di fare delle lezioni Con Ettore Scola Ettore Scola È stato uno Dei più grandi Registi Del cinema italiano Mi ricordo Che ci aveva fatto Tutta questa lezione Sulla luna Per dire Cercate di portarci Le cose perdute Perché almeno Lì sapete Di ritrovarle E quindi Ci chiedeva Tutte le volte Che cosa portereste Oggi Inizio io Vai Lollo Ah ce l'hai già pronta Vai vai Lollo Ah tu butteresti Sionderesti Sulla luna Lollo Mamma mia E quindi devo rimanere Là sulla luna A far cosa E quindi la missione Sarebbe Apollo Barollo Per andare sulla luna Tu Guglielmo Eh no 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 Adrien C'è tu Adrien Mi piacerebbe Metterci Le cose Che ora Voglio di più I miei obiettivi Perché so che Mi sto concentrando Su dei obiettivi Molto tangibili Grandi Che però so che Non sono davvero Quello che mi porterebbero A essere felice Cioè sono soltanto Un modo per raggiungere Dei obiettivi Che mi danno il senso Di fare qualcosa Della vita Cioè mi piacerebbe Non poter Non pensare a questo Distrarmi E non avere La necessità Voglia di inseguire Degli obiettivi Per una volta Cioè stare su quel prato Come da bambino E semplicemente Chiedere cose Goderti Quello che viene La spensiera del terzo È molto bella Come Come pensare Come riflessione Ma io credo in realtà Che sulla luna Sarò banale Io non ci troverei Mai Oggetti Ci troverei solo persone Quindi Tendenzialmente Per quanto mi riguarda Io sulla luna Ho già un po' di persone Che ho perso E che vorrei rivedere Perché io purtroppo Ho un bruttissimo Terribile rapporto Con l'abbandono Con il distacco Con la sensazione Del Stop Mai più Da adesso E quindi Anche con l'evoluzione Del tempo Dell'essere umano Il sapere per esempio Che il ragazzo Del quale ero Innamorato Cotto Che per me è stato L'amore della mia vita Adesso Non mi dica più nulla Quel ragazzo lì E anche quel Guglielmo Che si amavano In quel modo così Forte Li vorrei ritrovare Sulla luna Li vorrei ritrovare Persone che non ci sono più Sono un po' banale Scusate su questo Però è proprio L'unica cosa Che mi sento di dire Io ho momenti Cioè Vari momenti Della mia vita Che ho vissuto Che vorrei vivere Ma Anche il liceo Cioè è stato bellissimo Per me Ero proprio felice Mi sentivo Protetto Dai miei amici Cioè mi piaceva Anche avere l'ansia Delle verifiche L'ansia di Di cosa avrei fatto Nel futuro Cioè quest'ansia qua Buona Mi piace a me Sai che io invece La vedo al negativo Questa cosa Cioè io sulla luna Forse se dovessi Nasconderci qualcosa Per poi ritrovarla Nel tempo Ci metterei Tutta la cattiveria Che posso aver incontrato E che magari Ho anche fatto Agli altri Per ritornare poi A vederla Domani Con una consapevolezza Diversa E accettarla L'avete sentita Quel movimento Di antimateria Nel mio scroto Perché Io ho sentito Che Michele Io sono stanco Anche dalla profondità Di Michele Stanco Io sono raso Adesso Non puoi più fare domande Se ti vengono Ne avevo altre io Se ne hai altre E hanno in mezzo Racconti di libri E cose Non le puoi più fare Fine Ce n'è un'altra Io sotto questi occhiali Di lusso Sto piangendo Lacrime Di lusso Di tristezza Solitudine Abbandono Ma va bene così Nascondo il mio dolore Sulla luna Ci sono delle cose Che vorremmo tantissimo Come umani ritrovare Che abbiamo lasciato lì Inizialmente Senza pensare Che vorremmo ritrovarle Ma le abbiamo lasciate Proprio per non ritrovarle Invece ora Abbiamo cambiato idea Le vogliamo tantissimo Quando gli umani Sono andati lì Hanno lasciato Dei sacchetti Prima di andare Per alleggerire La navicella Con tutto quello Che non serviva più E dentro Quei sacchetti C'era tantissima cacca Che è tantissima Giusto Quantitativo di cacca Ma per alleggerire Un'astronave I chili di merda Non potevano essere Sparati nello spazio I chili di merda Allora diciamo Che quando hai Una navicella Che deve essere sottili Cioè più sottile possibile Per arrivare Con il minimo Carbonante necessario Non vuoi Quel chili in più Cioè un chilo Di merda In meno Significa Un po' più spinta Con la navicella E quindi Se sbagli qualcosa Ti serve un pochino Più carburante Immagina non arrivare Devi centelinare tutto Esatto Immagina non arrivare All'incontro Con la navicella Che ti porta a casa Per un Tre secondi Di carburante E quei tre secondi Fanno la differenza Perché le hai consumati Per portarti un chilo di merda Ci rimane un po' male Quindi le abbiamo lasciate Lol Le abbiamo lasciate sulla luna Ok Adesso invece li vogliamo troppo Li vogliamo tantissimo Perché sono pieni Erano ovviamente pieni anche di batteri E di vita Che è rimasta lì È rimasta nella cacca Per mezzo secolo Più di mezzo secolo E quindi quando ritorneremo E potremo prendere dei campioni Potremo vedere Come si è scavata la vita Senza protezione Sulla luna Per mezzo secolo Oddio c'è un'altra domanda Allora Questa è una curiosità Non la faccio più No scusate Scusate La faccio Ma chiamatemi madre Gli dite Ma puntata Ma mi lasciate sfogare Ma gli dite Sono sempre stato contenuto Allora guarda Per questo mi tolgo anche gli occhiali Ehm Vabbè Com'è nato l'universo? Non mi mancherai Oddio Raga È l'unica domanda Che abbiamo già fatto Secondo te Dov'è il centro dell'universo? Allora io farei un calcolo E analizzerei Quali sono i pianeti Che vanno da una parte Quelli che vanno dall'altra Cercando di capire Qual è il punto Da cui tutti fuggono La cosa meravigliosa È che l'abbiamo fatto E ogni punto È il centro dell'universo Perché tutto quanto Si allontana Tra di sé In tutte le direzioni Questo significa Che Lollo È il centro dell'universo Ma anche Anche te Anche Michele Chiunque Qualsiasi persona Può guardarsi al specchio Alla mattina E pensare Tutto quanto Oppure Puoi vederla in modo opposto E pensare Tutto l'universo Si allontana da me Letteralmente Qualsiasi galassia Si allontana In tutte le direzioni Lontano da me Da lì che sappiamo Che l'universo È iniziato con un punto Esatto Ma questa cosa qui Del punto Sì Eravamo sì Tutti quanti Un punto Energetico Punto esplodere Super super Come si dice Ordinato Ma attorno Ci deve essere Stato il delirio Non c'era niente Non esiste Attorno Perché tutto Quello che c'è L'intero Esistenza Tutto Tutto Era in un solo punto Ma non c'era nulla intorno Ho capito Ma nessuno Nessuno si è fatto Una domanda Tipo Delle teorie Su perché C'era questo Bozzolo di merda Pronto a esplodere E lanciare Feci ovunque Non è neanche Esploso È lanciato Semplicemente È iniziato A espandersi Quindi le distanze Tra All'interno Le distanze Hanno iniziato A aumentare Quindi il punto In sé Si espande Ma non c'è Non c'è un esplosione Non è che si muove In qualcosa Non c'è un centro Immagina di essere Un disegno Due dimensionale Va bene Sulla superficie Di un palloncino Che gonfi Non c'è un centro Del palloncino Giusto Della superficie La superficie Va da tutte le parti E non c'è Non c'è nulla fuori In due dimensioni Quello è il tuo Intero universo Non esiste una terza dimensione In questa metafora Per cui per noi È lo stesso Quell'universo Non c'è Per quello che sappiamo Al momento Un fuori dall'universo L'universo si espande In sé stesso Potrebbe essere finito E senza confini Oppure potrebbe essere finito Non lo sappiamo Ma uno scienziato Non impazzisce Nel momento in cui pensa Ma che cosa c'era Un secondo prima Che quel Il tempo ha iniziato A scorrere Da quel momento Per cui È un po' come Andare al polo nord Geografico E chiedersi cosa c'è più a nord Possiamo ipotizzare Quello sì L'universo Noi sappiamo che aumenterà La velocità dell'espansione Sempre di più A un certo punto L'energia necessaria Per aumentare l'espansione Sarà così alta Che potrebbe Essere sufficientemente alta Da creare Una nuova espansione Quindi praticamente L'intero universo Diventerebbe un nuovo Big bang Tra virgolette Quindi può essere Che semplicemente L'universo Crea altri universi Continuamente Hai presente I frattali I frattali Sì E gli alberi Come crescono Che c'è un ramo E poi Ah sì 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 Ok Che è rischio Quello E quindi l'universo Potrebbe espandersi Continuamente In nuovi universi Così Per sempre Ma noi non sapremo mai Qual è Qual è Se c'è stata una mano Che ha poi detto Espanditi Se anche ci fosse Una forza esterna Che ha dettato L'inizio di tutto quanto Chi ha fatto iniziare lui Devi a un certo punto Premettere Partire dall'idea Che c'è qualcosa A prescindere Sì A prescindere Cioè chi è l'inizio di Dio A quel punto Esatto Chi ha fatto Dio Ma non ti viene Il mal di testa A farti queste domande Tutto il giorno Con la tua ricerca E' molto legata Anche a cose umane Per cui ci trovo Un sacco di cose divertenti Di mezzo Per esempio Prima si parlava Dell'entropia Se tu aspetti Per abbastanza tempo E' vero che tutto Tende al disordine Ma in realtà Non è proprio disordine E' potenziale Se giochi a Scrabble Hai tutte le Come si chiama Scarabelle Hai tutte le parole Già organizzate sul tavolo E l'universo Quello che vuole Non è disordine Vuole potenzialità Di creare nuove cose Andando avanti L'universo Semplicemente mette Lettera a caso E quindi è vero Che se tu metti Lettera a caso Sulla superficie Di questa tavola Da fuori Per noi Sembrerà disordine Ma se aspetti Per abbastanza tempo Tutte le combinazioni Succederanno Non c'è niente Nell'universo Che proibisce Che se io tengo la mano Ora così Qui compaia una torta Realmente Non succederà Ma puoi stare tutto il tempo Con la mano così Non compara mai una torta Però matematicamente Si Se aspetti un'infinità di tempo Prima poi succederà Scusate Salto proprio Da tutt'altra parte Però Perché è una cosa Che a me Manda ai matti La coscienza è fortemente Legata al cervello Per quella che è la mia esperienza Ma La fine E la morte Cerebrale Coincide per forza Secondo la scienza Con la fine Di una possibile Coscienza personale O qualcosa di simile Sì Quello che noi sappiamo Di quella che La coscienza È che è un prodotto secondario Dell'attività Della neocorteccia cerebrale E si è evoluta Perché ci serve Per avere una cognizione Migliore di noi Dell'ambiente intorno E anche perché Noi come specie Abbiamo bisogno Sia di lavorare in gruppo E quindi abbiamo bisogno Di una socialità maggiore Ma anche Di pensare in astratto Alle nostre necessità Sul lungo termine Questa è una spiegazione Super superficiale Ci sono dibattiti enormi E francamente Nessuno lo sa di preciso Che cos'è la coscienza Perché questa Spiegazione funziona In base alla tua definizione In base a come definisci Che cos'è coscienza Noi tradizionalmente Nella filosofia Occidentale specialmente Perché già In Oriente è diverso Però abbiamo legato Tantissimo l'idea di coscienza Solo con il nostro cervello E la mente Il nostro corpo È solo tipo Un involcro Che porta la mente In giro Invece In tradizioni diverse Per esempio Già in Oriente Trovi lunghe tradizioni In cui il corpo La sensazione che tu hai Del corpo L'esperienza Che hai Del mondo Fa parte Della costruzione Della coscienza Della consapevolezza Quindi già Potrebbe cambiare definizione No Purtroppo Non era voluto Però recentemente Una persona Che veniva Venevamo fatti dei test Per l'epilepsia È morta Durante Delle EEG Che sono Elettrocerogrammi È morta Mentre era sotto la macchina E abbiamo visto L'attività del cervello Decine di secondi Prima della morte Durante la morte Dopo la morte Quindi abbiamo visto Che cosa fa il cervello Mentre una persona muore Quali sono le zone Che si accendono Quali si spengono La zona che sembra Accendersi tantissimo Nel momento della morte È quella collegata a O attività di sogni Oppure la memoria E riportare a memoria le cose Quella sembra attivarsi Tantissimo nel momento della morte Non abbiamo idea Se questa cosa Però lui l'ha vissuta Perché sembra È facile dire Ah ok E quindi quella cosa Del ti passa la vita Davanti agli occhi È vera Non sappiamo Se lui era consciente O che cosa Vedeva Puoi vedere solo Quale parte del cervello Si illuminava Poi è così In tutte le persone Era lui l'eccezione Quindi non è molto scientifico In senso stretto Però è un possibile indizio Che magari davvero Nel momento della morte Il tuo cervello Come ultima cosa Ti lancia Le immagini Dei tuoi ricordi Più intensi Della tua vita E la percezione Del tempo Potrebbe essere Estremamente dilatata Colleghi Mi concedete L'ultima domanda Michele Ti prego Questa qui L'hai condotta L'hai condotta L'ho condotta L'hai condotta tu Allora Adrian Rispetto a tutto Questo racconto Di incertezza Che ci fai Qual è il senso Dell'esistenza Allora È bellissima Questa è una Delle mie domande Preferite Perché penso Che sia Estremamente Bello Potersi dare Un senso Perché non c'è Già E questa è una delle cose belle Per esempio L'autunno scorso A un certo punto Era nel parco E c'era un mucchio di foglie Gigantesche Mi sono lanciato A stella E era Molto divertente Era molto stupido Come gesto Però Ho ritrovato Diciamo Quel senso Anche che avevo rivisto Qua e là Crescendo E il fatto che La vita Non è fatta Per avere un obiettivo In sé Non vai da nessuna parte Ci sei già Tutto quanto è inventato Tutto quanto l'abbiamo costruito Per sentirci meno soli E per cercare di Darci una ragione E ritrovare Quei momenti Di Godersi quello che succede Senza pensare Che devi Andare a qualche parte Per me È bellissimo E mi riporta anche Il fatto che Il senso stesso Della vita Non è universale Non è qualcosa Che trovi Nessuno dovrebbe Prenderlo Da dogmi O da Qualcun altro Che l'ha già costruito Perché sennò Diventa un po' come Ritrovare un fuoco Fatto da qualcuno In un bosco E riscaldarti lì E può essere Tranquillizzante Sul momento Ma poi Prima o poi Pioverà Prima o poi Il fuoco si spegne E se tu Non hai fatto il processo Per trovarti Quel senso Della vita Non hai imparato Ad accendere tu Il fuoco E il fuoco Il senso Che ti dai A volte Smetterà di avere senso Perché appunto Succedono cose Nella vita Perdi persone care Succedono cose terribili Ma se tu hai fatto Quel processo Sai sempre Come riaccendere il fuoco Sai sempre Dove c'è un mucchio Di foglie In cui lanciarti Per ritrovare Perché sei vivo E penso che Per quanto difficile Possa essere Da un momento all'altro Per quanto facile Sia perdere Il senso della vita La cosa più bella Dei umani Non è avere Il senso della vita Ma il fatto Che siamo Costruttori Siamo Tessitori Abbiamo tessuto Su di noi Un senso L'universo Non ce l'ha dato Non c'è nessun motivo Per cui non dobbiamo averlo Siamo su un piccolo pallino In mezzo al niente E non c'è niente Intorno a nessuno Qui frega niente Se esistiamo o no Se scompariamo domani Ma noi Nonostante tutto Siamo una specie Che si è cucita Ad osso Un bellissimo Senso della vita E non uno Ma miliardi Nel tempo Ogni persona Si è cucita Una cosa unica Quindi per me Questo è Il senso Più bello E che ogni persona Durante la sua vita Si crea un senso Intorno Adrian Mamma mia Io non mi potevo Immaginare Chiusura Una risposta migliore Bellissima Grazie Grazie davvero Grazie di cuore Per essere stato Nostro ospite Per averci permesso Di chiudere Veramente alla grande Grazie Aspetta porto via la luna Voglio trovare Un senso A questa vita Anche se questa vita Un senso Non ce l'ha Voglio trovare Un senso A questa situazione Anche se questa situazione Un senso Non ce l'ha Baby K Allora ragazzi Sentite Per 11 puntate Abbiamo cercato Di ripingere Un affresco Irregolare Atipico Ma il più fedele possibile A quelli che sono Alcuni aspetti Dell'essere umano Abbiamo avuto Ospiti Eterogenei E diversi Che ci permettessero Proprio di tratteggiare Temi diversi A volte distanti Tra loro Talvolta invisibili O persino controversi Il nostro compito Non è mai stato Quello di spiegare Nulla a nessuno Ma semmai Di raccontare Fermare Una serie di punti Che ognuno di noi Potesse coltivare Approfondire E unire da solo Quello del viaggio È un'esperienza personale Il massimo Che possiamo sperare Di aver fatto per voi È quello di essere stati Dei compagni Sopportabili Per quanto mi riguarda Michele Lollo Voi siete stati Non preziosi Di più Non vi ringrazierò Mai abbastanza Per aver deciso Di percorrere insieme a me Questo viaggio Ti rendi conto Che stai facendo Dei ringraziamenti Leggendo spudoratamente Un copione Ti ho scritto Cioè La tua nuova Mi spiego esattamente Io posso ringraziarmi Da solo No 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 Michele Lollo Voi siete stati preziosi Non vi ringrazierò mai Abbastanza Per aver deciso Di percorrere Insieme a me Questo viaggio Io posso dirti una cosa È molto triste Che proprio un cantante Che scrive Le sue emozioni E che quindi Le pianifica prima Per poi poterle raccontare Dopo Mi venga a fare Un discorso simile Ti sei tolto La corona Proprio nell'ultimo minuto Questo non è pianificare Questo è togliersi l'anima Io ho Io ho Semplicemente In un momento Nemmeno volevo farlo Però poi ho pensato Anna vabbè ci sta Perché me la sentivo Capito Mi sentivo di volerlo scrivere Quindi ho catturato Quel momento Perché io non sono bravo Guarda con la stessa cattura Io e Lollo Adesso tra 3, 2 e 1 Ti diremo prego Prego Dai ragazzi Veramente Sono stati mega carini Possiamo dirlo Un'ultima volta Tutti insieme Seppellendo quest'ascia Veramente Ho un'altra domanda Da farti Michele E vai E questo è il modo In cui tu vuoi Che io ti ricordi Sì Ti posso suggerire una cosa No Questo atteggiamento Non ho bisogno Di questo consiglio Lascialo sulla luna Così che a 80 anni Lo vai a rivedere Magari lo analizzi In maniera diversa Ok Perché per il momento È Negativo Lollo Sei il mio preferito Tu Fanculo Tutti e due Allora Dai lo facciamo insieme Tutti Ma ce lo dividiamo Un pezzettino per uno Aspetta Mi dai gli occhiali Thank you Aspetta Per il saluto finale Ho bisogno anche io Dei miei occhiali Certo Immagino Da noi feroci È tutto Ragazzi ragazze Un graffio Che merda che è stato Finalmente è finita Questa roba Mamma mia Veramente Io non vi ho sopportato Un secondo Vado a casa Chiamatemi un taxi Chiamatemi un taxi